in poche parole cos'è l'educazione Montessori è una specie di grande iceberg di cui si può vedere la parte fuori dal mare ma è una montagna molto profonda in pochissime parole Montessori ha sempre detto che il punto di partenza del suo metodo del suo approccio è seguire il bambino follow the child perché lui è il maestro Montessori non è una filosofa che deduce da un principio generale poi applica i concetti ai casi particolari per lei capire è più importante che dedurre da un principio lei vuole capire e interpretare il bambino come si differenzia questa concezione che abbiamo noi del bambino o dei genitori che stanno per avere un bambino e la loro mentalità e quella che ha avuto contro di quella che ha avuto Montessori? Montessori pensa che ha scritto un libro che ha intitolato La scoperta del bambino sembra abbastanza presuntuoso come i bambini ci sono sempre stati i bambini sono i cuccioli dell'uomo dell'uomo sapiens sapiens però in effetti noi abbiamo sempre visto i bambini dal punto di vista dell'adulto gran parte della cultura occidentale è stata centrata sull'adulto e Montessori all'inizio del novecento ha detto appunto di aver scoperto il segreto dell'infanzia cioè vedere, guardare realmente cosa c'è dentro al bambino, quale potenziale c'è dentro al bambino che cosa ne scoprì Maria Montessori? Montessori è stata per fortuna una ricercatrice, un medico, lei non ha studiato pedagogia non è stata un insegnante, già questo significa che lei è più interessata a capire che a insegnare lei non vuole educare il bambino, lei vuole capire quali sono i bisogni perché i bambini diventino meno infelicemente adulti dei propri genitori e ha cominciato lavorando con dei bambini subnormali dopo la sua laurea in medicina e in psichiatria vicino alla clinica universitaria c'era un manicomio in cui c'erano dei ragazzi, non possiamo dire dei bambini soltanto perché erano bambini che andavano dai sei anni fino all'adolescenza e per due anni lei fa l'educatrice e prova a lavorare con questi bambini e quello che ottiene è un risultato eccezionale, alcuni di questi bambini vanno nelle scuole normali, sostengono gli esami e superano gli esami ed erano considerati dei bambini idioti, subnormali, ineducabili e invece riescono ad ottenere dei risultati eccezionali e la domanda di Montessori è veramente straordinaria perché un grande ricercatore si qualifica per le domande che fa, non soltanto per le risposte che trova e la domanda che pone Montessori è che cosa non va nella scuola normale, che cosa non va perché se la scuola ottiene così pochi risultati con dei bambini non ritardati o subnormali e lei ottiene invece gli stessi risultati con dei bambini considerati ineducabili, che cosa non funziona nella scuola normale e da qui comincia la sua ricerca pedagogica, ma ci vogliono 10 anni, Montessori si laurea in medicina nel 1896 e fino al 1906 per 10 anni studia, lavora, ricerca, viaggia e alterna il suo lavoro di insegnante, di educatrice con questi bambini considerati subnormali con il lavoro di ricerca. Poi arriva nel 1907 la possibilità di fare un esperimento completamente nuovo e questo esperimento è appunto la creazione della prima casa dei bambini. Allora professore, quale sarebbe la differenza tra la casa dei bambini e una scuola tradizionale? La differenza, l'hai già detta, è proprio nel nome, Montessori non la chiama scuola, anzi lei dice che questo termine gliel'ha suggerito una sua collaboratrice, la chiama la casa dei bambini e significa che è un luogo dove il primo compito non è quello di istruire, di renderli più intelligenti, di renderli più capaci, è un luogo di vita che appartiene a loro, è la loro casa e lei ha detto che forse era sbagliato anche parlare di un suo metodo, il metodo è una via che serve per vedere quali bisogni i bambini hanno, quindi le scuole sono dei luoghi dove si istruisce, l'istruzione significa metter dentro delle cose. Montessori ha detto che le scuole dovrebbero essere dei luoghi dove si aiuta la vita e dove si espone l'infanzia alla bellezza e alla grandezza e quindi dove si educa, cioè si aiuta a tirare fuori quello che c'è dentro. Che cos'è che i bambini devono sviluppare? Che necessità hanno i bambini dentro di loro? Allora Montessori è una scienziata, oltre ad una grande anima, quando lei è stata in India usavano lo stesso aggettivo con cui chiamavano Gandhi, Mahatma, cioè la grande anima, quindi da una parte è una scienziata, dall'altra parte ha una visione filosofica e spirituale molto alta. Per lei l'educazione consiste nell'aiutare l'essere umano a mettere fuori tutte le potenzialità che ci sono e nei confronti dell'infanzia lei usa due atteggiamenti, da una parte sul piano umano una grande fiducia. Montessori ha fiducia nell'infanzia, ma non è una fiducia cieca, è una fiducia consapevole, è una fiducia che nasce dalla conoscenza, perché io posso fidarmi di una persona ma essere un illuso. Mentre Montessori ha fiducia nel bambino perché sa, e questo glielo dice la scienza, che nel bambino ci sono delle risorse, delle potenzialità, delle guide, dei drive che lei chiama periodi sensitivi molto potenti e il compito dell'educazione è aiutare queste guide, non sostituirsi a queste guide, perché chi vuole sostituirsi a queste guide spesso e volentieri provoca un ostacolo. Faccio un esempio, poi dovremmo distinguere il nido Montessori, la casa dei bambini per i bambini dai 3 ai 6 anni, la scuola elementare per i bambini dai 6 ai 12 anni. Montessori ha una concezione dello sviluppo umano, lei parla proprio della metamorfosi, cioè un bambino di 2 anni non è neanche parente di un bambino che ha 4 anni e un bambino di 4 anni è completamente diverso da uno di 7 anni, è lo stesso bambino, ma chi ha avuto l'esperienza, Montessori dice una cosa bellissima, il bambino tra i 3 ai 6 anni pensa con le proprie mani, quindi ha sempre bisogno di oggetti da toccare, di attività da fare, il bambino di scuola elementare tra i 6 ai 12 anni pensa con le proprie gambe. È vero, se voi portate un bambino di 4-5 anni in montagna a fare una passeggiata, dopo un po' non ce la fa più, devi aiutarlo, a me è venuto il mal di schiena con tre figlie a furia di portarle sulle spalle quando erano piccole. Prova a portare un bambino di 7-8 anni a camminare, lui cammina, tu ti stanchi, lui continua a camminare, è un altro essere. Montessori utilizza un'espressione che è tipica della biologia, la metamorfosi, cioè pensa alla vita degli insetti, c'è un uovo che sembra un minerale, l'uovo di un insetto è piccolissimo, poi da quel uovo esce un bruco che cammina e è molto diverso. A un certo punto quel bruco fa un bozzolo e da quel bozzolo esce una farfalla. Allora l'uovo, il bruco e la farfalla non sono neanche parenti, vivono in un ambiente completamente diverso. Questo ha capito Montessori, che l'età dello sviluppo da 0 a 24 anni è una successione di nascite. Noi nasciamo più volte, forse anche nella vita adulta c'è una rinascita, perché apprendere significa rinascere e il bambino apprende così tante cose che cambia completamente. Allora l'ambiente del bruco è il ramo di un albero, lui mangia le foglie più tenere, l'ambiente di una farfalla è il cielo, è l'aria, quindi ad ogni metamorfosi corrisponde un ambiente. Quindi guai a pensare alla casa dei bambini per la scuola elementare. Il bambino dai 6 ai 12 anni ha bisogno del mondo, ha una capacità completamente diversa, è entrato nel periodo sensitivo della cultura, dell'astrazione, dell'immaginazione, nel periodo sensitivo della giustizia, del senso sociale, cioè ha bisogni completamente diversi. E invece cosa abbiamo nel sistema educativo? Aule, aule dai 3 ai 6 anni, aule dai 6 ai 12 anni, aule dai 12 anni ai 18, aule dai 18 ai 24. Mentre Montestori dice nella scuola elementare per esempio, siccome il bambino ha una capacità di astrazione e di immaginazione, ha bisogno di uscire fuori, come puoi parlargli di un bosco o della vita delle piante senza portarlo dentro all'ambiente? Quindi il vero laboratorio è fuori dell'aula e quindi deve fare questa specie di entrare e uscire dall'ambiente scolastico. Tantissimi di noi possiamo essere nell'ambiente, adulti principalmente, possiamo essere nell'ambiente e non vederlo, non guardarlo, non osservarlo. I genitori possono avere dei figli e non osservano questi periodi sensitivi, non si rendono conto, si può avere la fiducia, però la maggioria della gente è per conoscere devo toccare, devo vedere. Ci daresti un consiglio o un'osservazione per noi, per la gente, per poter osservare o venire a conoscere questo nel bambino che è vero, la fiducia non basta, ci vuole la conoscenza. A me i grandi allievi che ho conosciuto di Maria Montessori mi hanno insegnato che bisogna utilizzare tre tipi di verbi, amare, è chiaro tu non puoi fare l'educatore e forse neanche il genitore se non ami. Amare però è una parola ambigua, è una parola... amore significa coinvolgimento, l'amore è un sentimento, i sentimenti hanno sempre anche il loro contrario, allora ci vuole la conoscenza, perché l'amore può far fare anche dei grandi errori e invece ci vuole anche la conoscenza, ma la conoscenza significa distacco, cioè cercare di capire, di studiare a fondo. Quindi io posso amare il bambino, come succede sempre, tutti i genitori amano i propri figli, ma per amore possono fare tutta una serie di sbagli, allora ci vuole la conoscenza, la conoscenza da sola sarebbe troppo fredda, allora se l'amore è troppo caldo, troppo coinvolgente, la conoscenza è troppo distaccata, troppo fredda. Qual è l'equilibrio? Il rispetto. Amare, conoscere, rispettare e rispettare significa saper aspettare, saper capire. Questo è molto difficile perché noi vogliamo aiutare il bambino, ma spesso troppi aiuti diventano un ostacolo per la sua indipendenza, per la sua autonomia, ma lo facciamo per amore. E allora Montessori ci ha dato veramente tutta una serie di conoscenze, di mezzi, perché non ha soltanto scritto, Rousseau ha scritto un grande romanzo che si chiama L'Emilio, ma non ha, si sa, non ha educato neanche i loro figli, i propri figli, da riuscireli abbandonati. Montessori non ha soltanto scritto, ho parlato, ho raccontato qualcosa sull'infanzia, ha sperimentato e poi ha dato degli strumenti che sono appunto il metodo, l'ambiente, il materiale, tutta una serie di tecniche e in questo caso la tecnica non è contraria alla libertà, anzi si aiutano a vicenda, però sempre mettendo al centro l'attività del bambino o l'attività dell'adolescente, perché poi se andiamo a vedere la scuola per l'adolescente, sembra che Montessori sia venuta da un altro pianeta, ma è vero, noi trattiamo gli adolescenti come dei bambini, è la cosa che odiano di più e li teniamo fermi, buoni e zitti dentro un'aula, dietro ai banchi e dentro ai banchi quando sono degli adulti, ci vorrebbe un altro ambiente, non è possibile che ci sia lo stesso ambiente da zero fino a 24 anni, questo è il limite della scuola, faccio un altro esempio, una delle materie, la cosa strana, almeno nel mio paese, almeno in Italia, mi è capitato recentemente di fare un corso di aggiornamento per gli aspiranti insegnanti di matematica, la matematica è una delle discipline più temute, gli insegnanti di matematica fanno paura, perché sono l'esattezza matematica, non perdona, nella scuola Montessori mi dicono le insegnanti, indovina qual è la disciplina che i bambini amano di più, la matematica, perché anche io quando partecipavo al corso Montessori era affascinante riscoprire la addizione, la sottrazione, la divisione, la moltiplicazione con il materiale e scoprivi che la matematica non è quell'arida disciplina che ti spaventava a scuola, ma è un modo di vedere il mondo, il più potente modo di vedere il mondo e Montessori dice insieme a Pascal che il bambino ha una mente matematica, l'esprit de geometry sta dentro di noi, ma allora se è vero, perché odio la matematica? Montessori ha detto che ha molte cose, Montessori ha anche una sua... non è stata una filosofa di professione però ha una sua visione del mondo era troppo intelligente per dedicarsi soltanto ad una tecnica, ad un metodo anche se importante lei ha una visione dell'uomo una concezione dell'uomo e la concezione dell'uomo che ha Montessori è positiva nell'uomo ci sono delle energie fondamentalmente positive ha una concezione completamente diversa da Freud Freud era un pessimista naturalista Montessori è invece un ottimista sulla condizione umana di tipo spiritualista per certi versi però non è un illusa quindi cerca delle prove per quello che sta dicendo lei è convinta della bontà dell'essere umano e che molti o gran parte di quelli che sono i grandi mali dell'umanità possono essere guariti attraverso la prevenzione la profilassi come diceva lei perché Freud curava le persone quando erano grandi e già ammalate ma se fossero state educate in una maniera diversa non sarebbero diventati degli adulti ammalati per cui lei ha una grande visione ottimistica i grandi mali dell'umanità possono essere curati tutti allora nella domanda che ha fatto lei l'aggressività sull'aggressività è stato scritto di tutto pensate a quello che Freud ha scritto sull'aggressività lui era convinto che non esistesse nell'essere umano esisteva soltanto la pulizione Leos dopo la prima guerra mondiale scopre invece che dentro l'essere umano c'era Thanatos c'era la morte perché per Freud ci sono delle lettere bellissime tra Freud e Einstein e il titolo di questa corrispondenza è Varum Krik perché la guerra? perché c'è la guerra? la prima guerra mondiale per la coscienza europea è stata una ferita terribile le nazioni sono combattute hanno fatto 10 milioni di morti in 5 anni di prima guerra mondiale combattendosi tra tedeschi, francesi, italiani, inglesi e Freud dice no no dentro l'uomo c'è la distruttività l'aggressività è l'istinto di morte e l'istinto di morte è voler non sentire più niente diventare come una pietra ritornare alla dimensione minerale ecco Montessori non è d'accordo Montessori è un'altra visione forse perché ha studiato molti bambini Freud non ha studiato l'infanzia ha scoperto l'importanza dell'infanzia ma attraverso degli adulti malati ma non ha studiato c'è soltanto il caso del piccolo Hans solo un bambino è stato curato da Freud e sono Anna Freud e tutta la psicanalisi infantile successiva a Freud ecco invece Montessori forse perché ha studiato i bambini ha scoperto che nel bambino c'è un agente cosmico positivo il bambino può cambiare il mondo può salvarlo Montessori scrive nel segreto dell'infanzia che il bambino è il messia cioè il salvatore e usa la prospettiva cristiana e che cosa fa? ogni bambino che nasce è come Gesù Cristo che viene a salvare il mondo e che fine fa Gesù Cristo? viene messo in croce e allora però ricomincia da capo quindi il bambino è il salvatore del mondo quindi lei c'è questa visione positiva allora la violenza può essere il veleno della violenza può essere tolta l'aggressività è un'energia l'aggressività non è negativa quando tu vuoi studiare un libro devi aggredirlo quando tua madre vuole costruire una scuola devi metterci tutta l'energia l'aggressività come direbbe Corrad Lorenz il grande etologo è il cosiddetto male ma non è un male è quello che ci fa vivere è un'energia il problema è di come canalizzarla così dicevamo stamattina nella sua domanda l'istinto di possesso Montessori parla di un istinto di possesso io, mio e allora tutti i pessimisti hanno detto vedi anche il bambino dice sempre mio mio, lo voglio io è egoista l'uomo è un animale egoista Montessori non è d'accordo su questo però esiste l'istinto di possesso è l'eredità della territorialità degli animali tutti gli animali hanno uno spazio vitale cercano di difenderlo diciamo stamattina se c'è una sedia libera vicino a me è libera ma tu ti avvicini troppo e mi devi chiedere è libero in questo posto? e allora ti dico di sì perché io difendo il mio territorio e gli altri lo sanno detto questo però anche il bambino ha un istinto del possesso ma lei usa un'espressione bellissima l'educazione dovrebbe aiutare il bambino e parliamo del bambino di scuola di casa dei bambini tra i 3 e i 6 anni a sublimare l'istinto di possesso nella conoscenza cioè un bambino che conosce le cose se un altro bambino gliele chiede lui gliele dà perché ormai ce l'ha dentro di sé c'è un possesso più profondo che è la conoscenza è un grande privilegio se io amo così tanto la storia dell'arte che capisco così bene un capolavoro la pietà rondanini di michelangelo oppure un quadro di caravaggio e lo conosco e lo amo così tanto e mi parla così tanto che bisogno di prenderlo di tenerlo in casa o di metterlo in una cassaforte avere l'originale anzi forse chi non lo conosce pensa di possedere perché è suo e allora il bambino che non è stato aiutato in questo diventa egoista ed è una conseguenza del lavoro il bambino a cui non è stato permesso di conoscere attraverso il lavoro perché il bambino conosce attraverso il gioco lavoro e allora l'istinto di possesso il bambino diventa pigro e possessivo ecco i difetti i difetti della condizione umana se il bambino ha un istinto del lavoro a rabbi di me c'è la gente che non vede l'ora di smettere di lavorare ma perché quel lavoro è diventato una tortura perché non corrisponde ad una vocazione se tu trovi il lavoro che è fatto per te non smetteresti mai di lavorare perché che è un gioco in realtà come adesso cioè io che sto lavorando è un gioco cioè io queste cose continuerei a parlare fino a che il sole non solo se n'è andato ma la luce si spegne completamente insomma allora c'è un po' di luce la sublimazione il passaggio direbbe appunto la fisica dallo stato stadio solido ad un altro stato e questo avviene anche dentro di noi anche sublimazione nel senso anche psicanalitico Montessori aveva già letto Freud quando scrive queste cose sublimare sì significa mettere queste energie al servizio di qualcosa di grande quindi si può trasformare l'aggressività la si può canalizzare nella guerra nella distruttività umana oppure nella grande impresa di uno scopritore che dedica tutta la vita e lei dice Montessori gli uomini credono di essere egoisti ma noi siamo stati se siamo qui è perché qualcuno ha inventato gli aeroplani gli antibiotici i dieci farmaci che hanno allungato la vita cioè questi sono personaggi che magari hanno fatto pure i soldi lo facevano non si sa però ci hanno dato un grande una ci hanno fatto un grande regalo e lei parlava della solidarietà nello spazio e nel tempo se io studio la storia andando a studiare sì le battaglie le guerre ma vai a studiare anche i dieci scienziati che hanno inventato le dieci medicine che hanno cambiato il mondo pensate il mondo senza la penicellina senza gli antibiotici Nefertiti Nefertiti la principessa d'Egitto quando hanno fatto la radiografia alla mummia aveva non so quanti ascessi dentro al dente voi pensate gli ascessi senza gli antibiotici era la figlia del dio Nilo eppure soffriva di mal di denti adesso anche il più povero prende un antibiotico e gli passa il mal di denti ecco quindi questi sono c'è un modo di studiare la storia che ci permette di vedere come attraverso le generazioni ognuno ha lavorato per sé ma in realtà ha sempre lavorato anche per gli altri e questo anche nello spazio adesso ci sono persone che tra poco produrranno l'energia elettrica produrranno il cibo che io mangerò stasera a cena cioè e questa è l'educazione in una prospettiva cosmica studiare le interdipendenze che ci sono allora anche l'uomo scopriremo che non è un animale egoista lavora per sé ma poi se questo lavoro è stato bene aiutato dall'educazione lavora anche per gli altri non perché diventa un santo ma perché comunque crea qualcosa con il suo lavoro di cui si si avvantaggeranno anche gli altri come le api e Montessori si pone davvero delle domande fantastiche ma se tutti gli organismi allora se voi andate non l'ho vista neanche io la tomba di Montessori lei è morta nel 1952 a Norwich vicino a Amsterdam e è stata sepolta lì le sue allieve indiane dopo la sua morte gli hanno mandato come regalo per decorare la tomba dei pezzi di barriera corallina del reef dell'oceano indiano perché lei tante volte parlava dei coralli e le chiamava le macchine di Dio perché perché il corallo che crea la barriera corallina è una macchina per depurare l'oceano pacifico dell'eccesso di calcio metabolizza il calcio lo assorbe e ci vive lui vive di quella cosa ma permette poi all'oceano pacifico di non morire se quelle macchinette smettessero di funzionare e sono degli organismi senza intelligenza noi diremmo che lavorano per sé metabolizzano il calcio che c'è nell'acqua e accumulano se questi smettessero di funzionare o come dicevi tu se le api come qualche tempo fa si era cominciata a diffondere se le api morissero tutte voglio vedere con che cosa si producono le arance qui a Hawaii se non ci sono gli insetti che vanno a impollinare i fiori d'arancia quando è il momento giusto sarebbe una catastrofe allora l'abbiamo scoperto l'ecologia che è contemporanea di Montessori nasce quasi contemporaneamente ai primi anni del novecento e la scienza che oggi non è più una scienza è un modo di pensare pensare il mondo per interdipendenze per connessioni per relazioni la parte e il tutto che collaborano sempre ma se lo fanno i coralli e lo fanno le api noi che abbiamo un cervello di un chile quattrocento grammi ma che ci faccio con questa cosa che c'è sotto i capelli ma che cosa serve potevo essere un Neandertal ce l'aveva più piccolo ed era già un super uomo poteva dominare la natura possibile che io che sono la creatura più perfetta che è riuscita come dice Edward Wilson eravamo dei pesci dentro una pozza d'acqua e siamo arrivati sulla luna io che cosa che compito devo avere quello di distruggere disturbing the universe disturbare l'universo come dice anche una parte dell'ecologia della Deep Ecology che dice che il mondo forse starebbe meglio senza di noi dovremmo estinguerci come specie io non credo Montessori non lo crede un'umanità diversa diventa collaboratrice della creazione e allora la super nature la super natura che noi siamo costretti a fare perché io non posso vivere come un ape io non sono un ape io ho bisogno di costruirmi una casa io non ho non ho io devo mettermi un golf se no tra poco sento freddo quindi noi siamo destinati alla tecnica noi siamo animali naturali artificiali per natura quindi la tecnica non è nemica ma bisogna farne un uso che collabori con la creazione ed è questa la visione ottimistica quindi tutte quelle energie l'egoismo la violenza la crudeltà possono essere sublimate messe al servizio di un compito collettivo superiore che finisce poi per collaborare al grande compito della natura nel caso dell'evoluzionismo o di Dio nel caso del creazionismo ma è la stessa la stessa cosa e concludo nella parte conclusiva di un libro piccolo così scritto da Montessori intitolato dall'infanzia all'adolescenza che è uno dei più belli dei più intensi e adesso che ci penso è anche il primo libro che ho letto di Montessori perché sono andato in libreria e l'unico che ho trovato è quello ed è stato il primo libro ma l'ho letto tante volte ma rileggendolo forse in età diversa in momenti diversi ad altezze diverse della mia vita ho scoperto una frase fondamentale che dice Montessori e qui vedi il passaggio dello scienziato al Mahatma alla grande anima a qualcuno che ha da dire appunto da da sperare agli esseri umani ci sono due fedi che salvano l'uomo gli esseri umani la fede in se stessi e la fede in Dio e ci sono due pericoli che possono far perdere gli esseri umani il potere e il possesso questa è saggezza in Montessori noi abbiamo la sapienza la scienza e la saggezza se non c'è la saggezza la sapienza non basta se non c'è la coscienza la scienza senza la coscienza potrebbe essere un pericolo invece si vede insomma grazie grazie per la pazienza no è stato e lei per noi un regalo come si dice un regalo sarà questo ambiente che mi suggestione potremmo dire mille altre cose se eravamo dentro un laboratorio se eravamo dentro un laboratorio di chimica vedevamo le cose completamente diverse ma per arrivare allo stesso obiettivo una questione così c'è un'ultima cosa scusa che mi piacerebbe però dire che forse neanche ieri ho detto quella che ho detto invece poi chiacchierando tante volte il collegamento che c'è proprio mi piacerebbe che lo traduci anche a lei il collegamento che c'è tra qualsiasi bambino di una qualsiasi scuola di una qualsiasi famiglia del paese più piccolo più disperso più lontano del mondo è il destino del mondo c'è un collegamento perché non sappiamo dove quel bambino tra 25 anni o tra 30 anni sarà può darsi che è quello che ha le leve per distruggere il mondo o creare il mondo quando Dostoyevsky diceva che soltanto la bellezza salverà il mondo ma la bellezza la devi aver nutrita può darsi che c'è uno che può spingere il pulsante o non spingerlo quindi non sappiamo ecco perché è vero Montessori è anche un metodo per insegnare delle cose per aiutare i bambini e così via ma quello che è importante è che qualunque gesto che fa un insegnante un genitore nei confronti di un bambino va molto lontano non si ferma lì perché allora allora che cosa serve cioè non è questo in gioco Montessori ci dà la capacità di vedere tutti gli anelli dell'infinita catena tra quel bambino a cui ho permesso la concentrazione qui e che quindi ha capito qualcosa della vita della vita di una formiga e il destino del mondo c'è una relazione c'è una relazione perché appunto Hitler ha avuto un'infanzia Stalin ha avuto un'infanzia Madre Teresa di Calcutta ha avuto un'infanzia Mandela ha avuto un'infanzia se la loro infanzia fosse stata diversa avremmo avuto meno morti meno dolore più salvezza tutti sono stati bambini come dice Antoine de Saint-Exupéry purtroppo non se ne ricorda perché la grandezza dell'infanzia è questa e anche l'altro aspetto drammatico tragico che c'è nella condizione umana il bambino di Absorbed Mind del bambino dai 0 a 6 anni non è cosciente i primi 5 anni di vita noi non ce ne ricordiamo eppure Montessori dice che accade tutto lì perché? perché la coscienza ancora non c'è il bambino è un lavoratore inconscio guidato dalla natura guided by nature inconsciamente fino a 6 anni poi piano piano la guidi diceva anche durante la scuola elementare l'assorbimento della cultura è inconscio secondo me aveva ragione leggendo bene Montessori poi piano piano nasce la coscienza ma mentre nasce la coscienza perdi qualcosa perdi di absorbance ma mind io non riesco mio nipote potrà imparare benissimo l'inglese io anche se imparassi bene l'inglese mi direi appena parlo di sei italiano non capirebbero subito e questo è tragico c'è una tragicità in questo quasi un destino cioè la potenza inconscia diventa coscienza la coscienza è una grande potenza però lì ci vuole la ragione e allora il compito è più difficile perché la devi nutrire di conoscenza il bambino può utilizzare la spontaneità ma quando diventi cosciente devi usare la ragione e ecco che allora le guide inconsce e la razionalità vanno verso lo stesso obiettivo e questo è e poi c'è un'altra cosa che però non ho approfondito quindi a telecamere spente no vabbè scherzo ci sono tutta una serie di domande di approfondimenti devo ancora studiare Montessori ma a me piace studiare Montessori la cosa per me interessante è che trovo conferme di Montessori fuori di Montessori questa è la cosa più interessante perché studiare solo Montessori al suo interno e invece la cosa più bella è quando trovi in qualcuno che neanche l'ha mai sentita nominare che dice le stesse cose e c'è un educatore pedagogista italiano che si chiamava Aldo Capitini il quale viene chiamato il Gandhi italiano è uno dei fondatori della non violenza è un grande personaggio il quale si domanda in un articolo in un libro contenuto in un libro intitolato educazione aperta no anche qui aveva scritto un altro intitolato religione aperta anzi lui era stato battezzato e si fa sbattezzare perché dice che il suo cristianesimo riguarda tutte le religioni è quello che ha fatto la marcia della pace tra Assisi e Perugia è diventato famoso in tutto il mondo insomma quindi una grande però si pone una domanda tragica per certi versi in un testo intitolato il bambino e la morte che senso ha mettere tutta l'energia tutta la tecnica tutto l'amore tutta la conoscenza nell'educazione se tanto questo bambino deve morire e allora lui che non sopportava l'idea che neanche gli insetti che neanche gli animali morissero e che c'è un momento in cui ci ritroveremo tutti quanti tutto il vivente tornerà a vivere e lui diceva appunto la copresenza dei morti e dei viventi questa copresenza essere insieme che significa appunto postulare su quello che è il titolo di un'opera di Bateson l'ultima l'opera che è scritto Bateson lì dove gli angeli esitano persino gli angeli esitano a dire delle cose sulla soglia della morte sul mistero più grande che ci avvolge insomma io credo che appunto Montessori la sua grande anima religiosa che crede nell'immortalità di qualcosa che qualcuno ha chiamato lo spirito l'anima sia fondamentale per l'educazione altrimenti perché educare con la loro la loro l'anima 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 Grazie a tutti.